Il rimpallo di responsabilità tra Regione Lazio e Comune di Roma non aiuta a risolvere l'emergenza, ma Roccasecca non sarà più la valvola di sfogo dei rifiuti della capitale. Sono le parole del sindaco Giuseppe Sacco. Il primo cittadino di Roccasecca spera che venga individuata al più presto una nuova discarica, ma sottolinea come l'emergenza rifiuti riguardi da vicino anche l'intera provincia di Frosinone. C'è l'esigenza di individuare una discarica, l'auspicio è che questo venga presto fatto, perché è ovvio che una capitale di una nazione importante come l'Italia non può vivere quelle situazioni ed è giusto che a quel rimpallo di responsabilità, in modo assolutamente responsabile, qualcuno scriva la parola fine e si vada a individuare anche la discarica per la capitale. Non me ne vogliano i cittadini ovviamente di Roma che subiranno un impianto sul proprio territorio, ma come prevede la legge ognuno deve smaltire i rifiuti all'interno del proprio ato, ogni ato deve essere autosufficiente e anche Roma deve esserlo perché le province non possono più giungere in suo soccorso. Aggiungo che la stessa problematica potremo rischiare di trovarla anche in provincia di Frosinone perché se la nostra battaglia dovesse andare a buon fine e se a breve riusciremo a far chiudere il sito o a ridurre, come abbiamo già fatto, sensibilmente quelle volumetrie e magari a renderlo disponibile solo nella provincia di Frosinone, ecco, si creerebbe anche un problema in tal caso qui nella nostra provincia che a quanto pare nessuno per il momento vuole affrontare, nessuno ne parla, si continua a parlare giustamente della Valle del Sacco, della necessaria bonifica che va operata immediatamente, però nessuno si pone il problema della provincia di Frosinone e del suo ciclo di rifiuti che a breve potrebbe essere interrotto per la mancanza di un impianto strategico come è quello della discarica, esattamente quello che sta succedendo a Roma in questi giorni. Il problema ambientale è un problema serio sul quale bisogna cominciare a confrontarsi anche qui in provincia di Frosinone, perché per anni il ciclo è stato chiuso qui in provincia di Frosinone con gli impianti esistenti, però bisogna cominciare a guardare avanti, agli impianti più moderni, forse sta iniziando questo procedimento la SAF, ma bisogna ragionare anche in termini di scarica. Quella che insiste ulteriormente a casecco ormai 20 anni, è giusto che chiude, è giusto che si vada a individuare un altro sito idoneo, ben consapevoli che bisogna aumentare anche la percentuale di raccolta differenziata in modo che sia sempre meno la frazione che confluisce in discarica. Noi lo diciamo per il bene della provincia dei cittadini, della provincia di Frosinone e per un miglioramento della qualità ambientale, quindi della qualità della vita dei cittadini, però notiamo anche che su questo profilo e su questo argomento fa difficoltà un po' la politica a confrontarsi. L'appello che mi sento di lanciare è proprio questo, sediamoci tutti attorno a un tavolo, cominciamo a parlarne, a discutere e cerchiamo di capire quali sono le soluzioni migliori, ovviamente nell'interesse dei cittadini. Questo lo dico perché in questa battaglia che il Comunire a Casecca sta portando avanti da tempo, spesso viene lasciato da solo e non ha la solidarietà della politica locale. Però i nostri rappresentanti devono comprendere l'importanza della battaglia che stiamo facendo sul profilo ambientale, ma anche la necessità di confrontarsi e di trovare le giuste soluzioni. Noi non vogliamo che la provincia di Frosinone vada in difficoltà come sta succedendo nella capitale, ma per fare questo bisogna programmare. E già ad oggi è stato individuato un nuovo sito di discarica, già pronto per colmare poi le eventuali sofferenze impiantistiche, qualora dovesse chiudere quella di Roccasecca. Questo percorso non è stato ancora incardinato. Ripeto, c'è una difficoltà della politica a confrontarsi su questo tema, invece è ora di sedersi intorno a un tavolo per evitare quelle disfunzioni a cui assestiamo puntualmente nella capitale e per evitare che ci siano anche problemi cittadini nella nostra provincia. Il sindaco Sacco ribadisce infine il no alla realizzazione del quinto bacino della discarica di Roccasecca. Per quanto riguarda adesso il quinto bacino, ovviamente ci stiamo opponendo in tutti i modi, oltre alla presenza dei vincoli che abbiamo ben evidenziato, quello paesaggistico, cioè quello fluviale della provincia, abbiamo introdotto ulteriori elementi di novità. Intanto c'è un esplopio in corso, quel terreno serve a comune di Roccasecca, come abbiamo più volte ripetuto. C'è una strada che è comunale, che verrebbe sovrapposta dal quinto bacino, che è altro motivo assolutamente impeditivo, e poi c'è questa esigenza di questa indagine ambientale che deve rassicurarci. Per cui sono tutti elementi assolutamente ostativi che ci convincono che tutto quello che il comune di Roccasecca fino ad oggi ha messo in piedi può essere assolutamente utile per arrivare finalmente alla chiusura di quel sito.